La epicasa Brindisi perde anche gara 2 con la Virtus Bologna 83-74 e si complica del tutto la vita nella semifinale playoff. Ancora una volta i bolognesi di coach Giorgiovic mostrano maggiore lunghezza nel rostre e grazie ai due uomini più esperti, Teodosic e Bellinelli, iniziano ad assaporare una possibile finale scudetto. Un match non bellissimo con i bianco-azzurri che partono male, 6-0, ma dopo 4 minuti c'è l'8-0 di break per i padroni di casa che si portano avanti. Il solito Teodosic viene mandato in campo a gara in corsa, sforna due assist ed una tripla e alla prima sirena più uno Bologna 19-18. Nella seconda frazione c'è equilibrio in campo con gli emiliani che mettono il naso avanti gestendo i vantaggi grazie ai canestri di Teodosic e Gamble. Brindisi trova la doppia cifra di Harrison, punti in aria, arrivano da Perkins ma alla pausa lunga, sono sempre gli ospiti avanti 39-38. Quando si torna in campo, la Virtus prova a premere sull'acceleratore e allunga anche in doppia cifra grazie allo show di Marco Bellinelli che realizza canestri di pregevole fattura. Per i bianco-azzurri si vedono a sprazzi, Bostick e Thompson, ma al trentesimo sono sempre gli ospiti a tenere il vantaggio 60-56. Nell'ultimo tempino non cambia la musica con la girandola di Cambi di coach Giorgevic che continua una difesa asfissiante e manda in tilt l'attacco di Frank Vitucci. La Virtus deve solo amministrare il vantaggio e con Teodosic, Markovic e Paiola il tempo passa velocemente. Mercoledì 2 giugno si torna in campo per gara 3 nella Virtus Segafredo Arena di Bologna con la formazione emiliana che ha già un piede in finale. Alla New Basket servirebbe solo un miracolo per ribaltare lo 0-2 e allungare la serie a gara 5. Nel basket tutto può accadere, ma i primi a crederci dovranno essere proprio i ragazzi di coach Vitucci.